E dopo tanti libri di altri, bimbi, un libro scritto da me, l'indeterminazione del principio. In seguito a un'aggressione, Mara cerca di ricostruire i tasselli della sua vita insieme al presunto regista di un film in cui partecipa come attrice, di cui però non conosce la trama. Tra cinema e tribunale, più procede nei ricordi e più si rende conto che le scene del film descrivono la sua vita nella realtà di un mondo che non è più il suo e non distingue più i testimoni del processo dagli attori del film e dalle persone reali che ha conosciuto nella vita. È un romanzo che consiglio a tutti quelli che vogliono qualcosa di inclassificabile, a chi gli piace la meccanica quantistica perché il principio di indeterminazione si riferisce a quello, di Heisenberg, e a chi piacciono i gialli in cui però l'assassino è la realtà. Segue Cthulhu Punk, che è uno scritto inclassificabile tra saggio e autobiografia, molto divertente tra l'altro. E quindi che dire, compratevelo e... vabbè, ho rubatelo, tanto non l'ho comprato, quindi andate a rubarlo, ok? Ciao!